ho dovuto sacrificare un pezzo ciaccioni ragazzi dagli da mangiare così sto in qua facciamo un po di foto guarda che ci riparto al tavolo se gli da da mangiare aspetta mi ci metto un chilo e mezzo ora si Sì abbiamo fatto una passeggiatina fino al boschetto a forma d'italia ora torniamo da magù Michele si sta avviando torniamo qua stanotte e poi domani si va via anche domani no ciao Grazie a tutti